Si chiama Taranto e l'amore, fotografia dei sentimenti e il contesto fotografico ideato da Sara Montorsi della boutique La Fabrique che ha ottenuto il supporto dell'associazione Artava e di tanti partner di prestigio come il liceo classico Archite e il fotografo Salvatore Calentini. I partecipanti dovranno farsi ritrarre in foto che esprimano il concetto dell'amore, avendo come sfondo scorci della città di Taranto. Ma la partecipazione è aperta a tutti, non solo a persone sposate o fidanzate. Si è già registrata una grande partecipazione, le foto possono essere ancora consegnate in busta chiusa entro le 18 del 10 febbraio alla boutique La Fabrique in via Pupino 59 e inviate anche all'indirizzo calentini-salvatore-01-gmail.com La cerimonia di premiazione si terrà domenica 13 febbraio alle 18 presso l'antro delle sirene in Cetta Vecchia a Taranto. Ci sarà un primo, un secondo e un terzo posto con dei buoni all'interno della boutique che l'obiettivo è permettere a tutti quanti, non ci sono infatti limiti di alcun tipo, di età o di altro di poter prendere parte a questa iniziativa molto carina del predo di San Valentino che vedrà protagonisti tutti quelli che vorranno scattare una fotografia con però uno scorcio di Taranto. Quindi la caratteristica è questa, fotografare l'amore e i sentimenti prendendo una parte della nostra meravigliosa città. Sicuramente la Fabric ci ha dato la possibilità di ospitare questo bellissimo evento e questa iniziativa all'interno della nostra sede dell'antro della sirena che è in via Paesiello per cui nel cuore di Taranto Grazie. Grazie. Grazie.